Furto questa mattina presso l'area mercatale di Battipaglia. Una donna è stata scippata della borsa mentre era intenta a fare acquisti. All'interno vi erano numerosi effetti personali, fra cui portafoglio, cellulare e chiavi di casa. Lo scippatore si è dileguato in pochi secondi facendo perdere le proprie tracce. Ad intervenire la polizia municipale che ha effettuato i rilevi del caso ed ha avviato le ricerche del ladro e della refurtiva. La è stata invece soccorsa dai volontari della Givi.